Risolto lo sciopero nei cantieri navali di Palermo. Per lunghe ore le maestranze sedute sul muro degli stabilimenti hanno atteso la risoluzione dell'avvertenza di carattere economico. L'attività dei cantieri è stata forzatamente sospesa per oltre tre giorni, nel corso dei quali gli operai non hanno mai abbandonato i locali, confortati dalle visite dei familiari che sostavano all'esterno. Alla fine è giunta la buona notizia, prattative concluse. La sirena ha dato nuovamente l'avvio al lavoro.